Si è tenuto in prefettura una riunione del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, a cui hanno partecipato anche i sindaci e i commissari dei comuni di Crotone, Ciro Marina, Cutro, Crucoli e Isola di Caporizzuto. Il tema trattato è stato quello delle problematiche di ordine e sicurezza pubblica durante la stagione estiva, nell'attuale fase di ripresa delle attività produttive e della vita sociale, alla luce delle ordinanze sindacali che regolamentano l'orario di apertura degli esercizi pubblici e la somministrazione di bevande alcoliche, nonché l'adeguamento della normativa anti-covid prevista dalle norme statali e regionali. L'inizio della stagione estiva e il recupero dell'ordinario svolgimento delle attività sociali e commerciali, ha evidenziato il prefetto, richiedono l'imprescindibile necessità di un'opera attenta di sensibilizzazione di tutti i soggetti coinvolti a vario titolo nel controllo delle attività, esteso anche alle spiagge, date in concessione a privati o gestite direttamente dall'ente comunale. Proprio al fine di prevenire e contrastare i fenomeni di affollamento, è stata evidenziata la necessità che le attività di vigilanza, osservazione e controllo da parte delle forze di polizia avvenga con il concorso delle polizie locali, consegnata attenzione ai luoghi sensibili. La stagione estiva, appena iniziata, impone un attento controllo delle aree più frequentate da assicurare anche attraverso l'emanazione di regole certe e chiare che consentano di garantire la sicurezza di tutti.